Signori benvenuti in questo nuovissimo video raga è il ritorno di Among Us, una roba incredibile Tra l'altro raga sta per uscire Among Us in VR ragazzi, Among Us con il visore di realtà aumentata E oggi noi in occasione di questo avvenimento speciale ci andiamo a provare quello vecchio che tanto male non fa Vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella ragazzi, la campanella è molto importante ve lo ricordo Insieme al resto dei social ragazzi c'è anche il server di Discord, il server meraviglioso dove potete andarvi a divertire e socializzare con tutte le altre persone Perciò signori direi di non perdereci in chiacchiere e di partire subitissimo col video di oggi, let's go! Almeno una partita da impostore la farò no? No! Indovinate chi è Creomate di nuovo? Fare... Ah è vero, dobbiamo affixare le luci ragazzi perché hanno appena sabotato le luci No, le hanno già affixate prima che arrivassi Oddio, due viola! C'è il viola qui Oh, eccolo lì, trovato Peccato, quindi viola safe Viola safe Shape shifter Ok Andiamo avanti Ci sono due shape shifter, ok ci sono due mutaforma quindi Comunque andiamo a guardare il ciano che fa lo scan e vediamo se veramente fa lo scan Ok, il ciano è safe Il ciano è safe, a posto Intanto vado a fare l'ossigeno Qua no, lo sta già facendo il bianco Quindi io direi di andare dall'altra parte e approfittarne Ok, anche il marroncino è safe Quindi ciano e marroncino è safe Ok, ah è morto il viola Lo sapevo Ok, cian and turn safe Che task visibili ho da fare? Nessuna, guardo un po' che culo Quindi io se dovessi essere accusato non avrei nulla per difendermi Allora io skipperei perché non ho assolutamente idea di chi possa essere l'altro Quel tipo lì con il colore corallo È molto zitto e mi sa di susse quando la gente non scrive Raga è complicata la situazione, non ho proprio idea di chi possa essere l'impostore in questo esatto momento È morto il bianco, attenzione Green killed white, attenzione Green or lime Vote lime Vote lime Mi fido ciecamente di questo qua, del marroncino perché il marroncino è safe Perché l'ho visto farlo scan Perciò è sicuro il lime Ma come? Sta per uscire il corallo però secondo me il lime è flamingo Vediamo E si chiama l'emergency, dai andate a farse dei luci Ok, a posto A posto, a posto It's lime Giuro che se la vinco così ragazzi faccio il game della vita Andiamo a votare il lime e lo buttiamo fuori Vediamo se avevo ragione Avevo ragione ragazzi Il lime l'ho appena buttato fuori E quindi se non è flamingo è per forza il blu Se il rosa chiaro è davvero safe Il terzo è il blu Senza ombra di dubbio No, non lo faccio il download Fa vedere Eh, vedi Era il blu Te pareva Palese Eh, palesemente il blu ragazzi Perché è arrivato da dove c'era il corpo Perciò niente Mi spiace Mi spiace ma è il blu Comunque raga Partitina, partitina vinta E comunque ci ho messo del mio, eh Ci ho messo del mio Ma io voglio sgozzare le persone Voglio essere l'impostore raga Cosa? Ma sul serio? Shapeshifter poi Ladies and boys Guess who's back Ladies and gentlemen Boys and girls Indovinate chi è tornato a fare questo incredibile Meraviglioso, fantastico lavoro Allora, la cosa che facciamo adesso è sabotare le luci Fare subito uno shapeshift in Trump E uscidiamo Uccidiamo una persona Uccidiamo una persona E eventiamo Volendo Attenzione Hanno trovato il corpo del lime Kill Molto interessante Ho votato il corallo Core è stato buttato fuori Quindi queste sono Heads kill Kill indirette Ma sempre heads kill Attenzione Adesso se ne buttiamo fuori un altro Adesso se ne butta fuori un altro Ragazzi Adesso se ne butta fuori un altro Ma prima di farei di fare un sabotaggino Quindi te le sabotiamo le luci Farei un bellissimo shapeshift Vabbè tu sei morto Ah no Non sei morto Direi proprio che Peach I swear it's not me Eh Se Cosa Cosa No direi di no I'm so so I'm so so Fialow Cosa What Cosa Cosa vuoi Ma cosa vuole questo Cosa vuole questo che mi insegue Cosa vuole questo che mi insegue Basta inseguirmi Battene Va Dasta Ora chiamo all'emergency Dicendo che mi insegui Black Stop Chasing Me Black perché non hai fixato le luci Eh perché Perché dovevi inseguirmi Putin Sono Putin Dai Sei morto Cretino L'hanno trovato Where Chi è che c'è Allora c'è ancora questo Ok Io voterei 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 Peach Voterei Peach Perché sono sicuro che l'altro impostore la voterà Quindi la voto anche io Mancano Mancano una kill Ognuno di due Abbiamo vinto la partita in teoria Io direi di Manca una kill Regà Manca Ci manca una kill Perciò direi di Spegnere le lucine Dai ci manca una doppia zio Dobbiamo fare la doppia Dai zio la doppia La doppia La doppia La doppia Ok 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 Bam Let's freaking go Boys Nice one Nice one Bella Signori Boys Girls Spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito a farmelo sapere Lasciando un pollicione in su Iscrivetevi al canale Se ancora non lo aveste fatto Attivando la campanella Delle notifiche ragazzi Seguitemi su Instagram Come Angel Vi lascio il link di Instagram In descrizione insieme Al link di tutti i social Ragazzi Server di Discord Compreso ragazzi Dove potete socializzare E divertirvi ragazzi Il server di Discord È un posto meraviglioso Entrate nel server di Discord Fatemi sapere Se volete altri video DemonGlass Il prossimo video Che uscirà sarà La Build Battle Episodio 2 Con il Goblino Perciò Restate sintonizzati In caso vi foste passi Da prima Ve la lascio Qui In scheda E niente raga Io vi mando un bacino Commentate Mettete un pollicione in su Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao